Export della traccia su Cubase 10.5 Ciao sono Claude e oggi ti spiegherò come esportare in maniera giusta, efficace e con l'audio che realmente ti aspetti con Cubase 10.5 Eccoci la nostra schermata con un progetto già pronto da esportare quindi noi ci troviamo in queste condizioni con la traccia diciamo pronta per essere mandata al nostro produttore discografico oppure per essere portata in uno studio a mixare insomma tutto quello che di solito fate con le vostre produzioni quindi abbiamo tutto qua pronto, controlliamo che tutti i canali che ci interessa esportare siano aperti e tiriamo un ciclo ovviamente facciamo un ciclo, un loop da inizio alla fine del progetto come ho fatto io a meno che non vogliate esportare solo una parte della traccia cioè tipo questa ma noi facciamo l'ipotesi normale cioè quella di esportazione totale della traccia ottimo andiamo quindi su file esporta, mixdown audio e qui subito ci chiediamo il titolo vabbè c'era già, ce lo rimettiamo, mettiamo bahia demo, bahia demo, ecco qua benissimo, subito il percorso del file quindi desktop, chiavetta dove volete voi e lui ti farà vedere l'anteprima di come viene, vedete cliccando qua come verrà il nome del file conflitti tra file, lui controlla se ci possono essere dei conflitti di nome tra i file quindi chiedi sempre, crea un nome file unico o sovrascrivi sempre il formato del file molto molto importante in questo caso potete scegliere tra file wave, file IFC, IFF questi sono formati in alta qualità in genere viene usato il wave per fare l'export oppure l'empeg, il famoso mp3, mpeg1, layer 3 dove vedete lui si setta in modo diverso in questo ma questo lo vedremo dopo, oppure windows media audio, il flac, log vorbis, il file wave64 tutti i formati compressi, diciamo che per fare un master in alta qualità wave o IFF sono quelli più usati soprattutto il wave, quindi noi al momento lasciamo wave la frequenza di campionamento solitamente 4400 oppure 48000 questo deve essere sempre lasciata uguale cioè se lavorerete anche in altri studi a 48 è inutile che fate l'export a 44 o viceversa quindi sceglietevi una vostra frequenza e quella sia la risoluzione in bit vale il discorso precedente quindi o 16 o 24 bit, altrimenti cambiate diter, mettete un diter sul master le impostazioni relative al tipo di file queste potete lasciarle tutte come sono se non vi interessa nessuna di queste opzioni broadcast wave e informazioni xml, definizione del tempo ed altre mentre l'opzione di esportazioni, queste possono esserci utili di tipo l'esportazione in tempo reale ci fa sentire i file mentre viene esportato con tutti gli effetti ovviamente l'esportazione che già un pochino è lunga anche dipende dalle funzionalità del vostro pc o mac però questa è un po' più lunga ma ci fa sentire in tempo reale tutto aggiorna la visualizzazione, cioè dello scorrimento e dopo l'esportazione invece ci può chiedere se creare un nuovo progetto se creare una traccia audio o inserirla nel pool cioè questa nuova traccia che noi creiamo come file master può diventare un nuovo progetto in questo caso può diventare una traccia audio e me la metterà all'interno del progetto cioè qua, oppure inseriscimela nel pool nel pool poi faremo un tutorial a parte dove ci vanno tutte le tracce che noi inseriamo digitiamo il nome della cartella pool dopo il post processamento non fare nulla oppure fai l'upload su soundcloud premetto se molti non avranno questa schermata o avranno simile dipende tutto dalla versione di Cubase che avete installato questa è l'ultima per cui ho fatto questo tutorial anche per aggiornare quelli che hanno le versioni vecchie in modo da far vedere cosa succederà con le versioni nuove ok, bene selezione dei canali qui potete fare singoli o multipli quindi qui potete scegliervi il canale singolo o il canale multiplo mentre qua l'intervallo di esportazione può essere scelto questa molto importante fra i localizzatori o fra i marker di ciclo vedete cambiando qua localizzatori vuol dire che lui mi esporterà in questa barra celeste viola violaceo diciamo così quindi fra gli intervalli di loop da qui dall'inizio alla fine cioè fino al che io ho messo anche fin troppo lungo quindi andrebbe fatto fino a quando ci sono dei riverberi quindi diciamo indicativamente qua altrimenti fra i marker i marker anche qui faremo un tutorial a parte sono queste finestre con le bandierine potete crearlo facendo aggiungi una traccia marker eccola qua e qua gli direte il nome e i numeri di marker per esempio io potrei volere da qui a qui solo questa strofa mettiamo oppure solo il drop e poi esportare in base al tipo di selezione fatta quindi localizzatore e marche di ciclo torniamo un attimo all'esportazione dei canali si possono esportare anche i singoli canali vedete quindi tipo questo 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 oppure multipli scegliendo se io voglio questi 4 o 5 qua e mi esporterà solamente diciamo il bounce come veniva detto una volta adesso vengono chiamati i stems dei canali questo è molto utile faccio riferimento proprio agli stems andatevi a vedere anche come si crea lo stem il tutorial che ho messo pochi giorni fa per esportare in maniera multipla gli stem cioè se volessimo noi utilizzare solo il lead solo l'arpeggio solo questo campionatore o un canale A o la cassa io ho questa esportazione qua e vado altrimenti deseleziono tutto e seleziono solamente lo stereo out quindi lui mi farà il famoso bounce dello stereo out il bounce che significa come l'export in pratica è l'insieme di tutte le tracce del progetto quindi quando si parla di sentite parlare di bounce o di export vuol dire tutte queste tracce che confluiscono in una sola dall'uscita audio che noi dalla qualità audio che noi abbiamo scelto cioè wave o mp3 molte volte io ci ho creato proprio questo canale per questo scopo molte volte i dj o i produttori o chi fa i tutorial spiega le cose in modo un po' troppo tecnico sì è vero che tanti non hanno bisogno e già conoscono questa cosa però ci sono persone che si approcciano per la prima volta e se noi li diciamo in termini tecnici fanno fatica e si perdono alcuni passi quindi esportazione export vuol dire mettere tutte le tracce e farne uscire una sola cioè il master della vostra traccia che sia in wave o mp3 o a if il bounce è la stessa cosa però molto spesso viene usato in termini tecnico per dire mi mandi il bounce della cassa del basso e del synth questo vuol dire l'equivalente degli stem cioè mandami solo questa traccia qui quindi io metterò in solo solo la cassa e farò il bounce lo stem solo della traccia oppure voglio solo il basso farò lo stem di questi due del lead e di tutto voglio l'export generale tolgo il solo all'e quindi andiamoci a esportare questa traccia in wave anzi voglio farvi vedere un attimo le opzioni di se scegliamo mp3 mp3 qua nelle impostazioni relative ai tipi di file se prima c'erano queste per il wave vedete che adesso per l'mp3 cambia tutto e c'è il tipo di compressione che sempre a 320 vi consiglio di tenerlo per la buona qualità se deve andare su youtube o altre cose potete utilizzare un 192 un 160 più giù andate peggio sarà la compressione mp3 quindi il file perderà frequenze avrà dei tagli e si sentirà male quindi il top dell'mp3 è sempre a 320 la frequenza di campionamento 32 44 e 148 quindi vedete settata su 44 qui se volete la modalità alta qualità e qua se volete inserire un tag id3 quindi qua potete scriverci il vostro titolo della traccia l'artista e tutto questo il commento l'anno e questo vi andrà il genere ovviamente e questo vi andrà nei tag della traccia quindi mettiamo artista claude album nico a cui sto facendo la traccia numero della traccia 2 anno 2020 genere vediamo se c'è il nostro genere mettiamoci disco anche se è un idm questo commento export andiamo ad esportare tutto ecco qua riapriamo il nostro sì diciamo che ci siamo export audio e vedete che lui comincerà a fare tutto questo export adesso questo processo io lo velocizzo altrimenti ci mettiamo veramente un minuto e mezzo ecco qua una volta finito il progetto noi abbiamo velocizzato vedete che questo può essere copiato il file nella cartella di progetto converti secondo le impostazioni del progetto e gli diamo ok e lui ha finito ed ecco andiamocelo a vedere sul desktop ecco qua il nostro bahia demo che importiamo all'interno importiamolo su una traccia audio nuova altrimenti rischiamo di fare danni ascoltiamo solo questo ed eccolo qua sentite tutto il nostro progetto benissimo il nostro audio come possiamo vedere è in mp3 in questi casi se io vado su proprietà del file demo dettagli vedete sui dettagli c'è il titolo che gli ho messo io artisti partecipanti disco la velocità in bit e tutte le informazioni che ci interessano bene spero di esservi stato utile per questo tutorial per l'export del vostro progetto su cubase vi ricordo che per queste per tutte le altre informazioni potrete contattarmi sul sito corsidjproducer.com per eventuali consulenze o lezioni anche online il nostro canale youtube dove vi chiedo di iscrivervi per avere tutte le novità soprattutto attivare la campanella per le vostre notifiche per essere sempre informati tutti i momenti dei nuovi contenuti di SOS4DJ inoltre se vi è piaciuto questo tipo di video mettete un bel like che non sarebbe male da SOS4DJ e da parte di Claude io vi aspetto sempre qui per i prossimi tutorial ciao ciao